Ragazzoli bentornati, Dragon Ball Z, Dokkan Battle, versione global, torniamo per l'ultima volta, per l'ultimissima volta all'interno della Thank You Celebration Finora abbiamo dedicato in totale praticamente due video perché c'è stato quello lì di Zamasu in cui per fortuna con un quantitativo di 260 stone totali se non vado errato abbiamo trovato comunque Zamasu Quindi ci sta, mentre da Trunks per il momento abbiamo fatto praticamente il primo giro più la prima multi del secondo giro, quindi avviamo praticamente un nuovo giro Ora non so quanto spenderemo, sicuramente la spesa c'è stata per il momento perché un qualcosa come sotto le 400 stone le abbiamo spese all'incirca Che, oddio, ci stanno e per un Dual Fest ci stanno assolutamente Per il momento manchiamo ancora di Trunks, manchiamo anche di Kid Goku, caspita, manchiamo anche di Kid Goku Quindi voglio ancora provarci un attimino, ok? Non ricordo quanti... ok abbiamo 6 ticket Vai, proviamoci, andiamo subito con la prima multi summon E... nulla Proviamo giusto un attimino a continuare Direi che è un ottimo inizio, direi che è un ottimissimo inizio questo qui di video Ora è forte, allora Buono! Buono Kid Goku, buono, 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 buono Se proprio non dobbiamo trovare Trunks Buono, Goku Kid, Kid Goku, Gokuyab, giovane Come lo volete chiamare? Buono Class Leader nuovo che non ho mai trovato all'interno del Jop Eh, del Jop, se ne vabbè, del Jop Che troviamo qui all'interno del Global La sua batch l'ho totalmente schippata, se non vado errato Per poi ritrovarlo Per fortuna qui in un Dual Fest Dove sicuramente avrei avuto più modo di pullare e più voglia soprattutto Kid Goku veramente ottimo Al top, al topissimo Ottimo inizio di Multisammon Ottimo inizio di video Ottimo inizio di qualsiasi cosa Speriamo di continuare al meglio Ragazzi È ufficiale? No, in realtà stavo per di una cosa che non è per nulla ufficiale Però Da questo banner ci mancano soltanto Gohan Che non ci interessa, vi dico la verità Cioè, ok, sarebbe giusto da collezione Sarebbe giusto da, come ulteriore class leader Gogeta Ability 3 Bella questa multi, molto molto bella Sicuramente Beh però Gogeta Ability 3 credo Non credo che questo sia l'Ability 2 Devo controllare Però non male, non male Veramente questa è stata una multi Molto 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 buona Veramente veramente top Eh, dicevo Gohan Ragazzi Trunks Trunks è sicuramente PG Che in questo momento Ok Ricopre la posizione La punta della piramide Ok Ciò che noi vogliamo di più Ciò che più ambiamo da questa baccia Ragazzi Devo controllare Gogetinho A quanto ce l'abbiamo Perché davvero Non ricordo Allora Lo abbiamo Ability 1 Ability 2 Ragazzi Nell'Ability 3 Cioè Rendiamoci conto Se ne becchiamo un altro Se ne becchiamo un altro Lo portiamo ad Ability Fulgo Gogeta Oh Va bene Non ha voluto dire Warida Non ha voluto dire Warida Però Dovrebbe essere buona Amico Mamma mia Potrebbe essere buona Dai Potrebbe essere No 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 Mi dispiace Ma proprio No No Il tech Ancora ancora Te proprio no Mi dispiace Tengo già Ability 4 Va bene È il primo personaggio Potrebbe esserci qualcos'altro No Non mi dire che Tien Jaozzi E Super Saiyan God Vuol dire che praticamente Abbiamo trovato Vegeto Blue E Chowman Per favore No Per favore È terribile È terribile Come cosa È terribile Porta fortuna Porta fortuna Incredibile Per favore No Vi giuro Rosico Ci rimango male Tocca Ti giuro Ci rimango Veramente male No Ci sto rimanendo Super male Ci sto rimanendo Veramente Veramente male Non è proprio Malvagissima Ragazzi Ci sono rimasto male Questa era una multi Su cui Stavo riponendo Avevo speranze Qui Vi dico la verità Avevo riposto Delle ottime Speranze Per quella Multisam Peccato Riproviamoci 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 Riprovaci Va bene Però forse ci riproviamo Forse ci riproviamo Ok Forse Non in modo Pazzesco Come prima Col Super Saiyan God Più animazione Banner Però ci riproviamo Ragazzi Deve essere per forza Comunque un Dockham Fest Dai Non vedo possibile Che sia qualcos'altro Perché i pg banner Sono solo Dockham Fest Qui Dai 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 Ci possiamo sperare Ci possiamo sperare Ci possiamo sperare Nel Trunksino Dai 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 Non lo troviamo Non lo troviamo Devo piangere Non lo troviamo Lo so che non lo troviamo Trunks Lo so Abbiamo trovato Lo sapevo Non abbiamo trovato niente Da sta multisambo Lo sapevo Lo sapevo Non è possibile Non è possibile Però forse È un altro Kid Goku Effettivamente Effettivamente C'era ragazzi C'era E come Il pg da banner Un altro Kid Goku Che portiamo addirittura Da ability 1 Ci sta Ci sta Ah e non è finita qui Perché troviamo Tora Va bene Ce lo portiamo a casa Ragazzi sicuramente Sono state 3 multisammon Ok lasciamo perdere La seconda Che veramente è stato Un bait di quelli enormi Lasciamo perdere Però È stato buono Questo qui Come Ok forse Ok Forse torniamo Ai livelli Ai livelli A cui ci ha abituato Ultimamente Quanto meno il jump Il jump ci ha abituato A questi livelli Di animazioni A livelli di multisammon Che probabilmente Voglio dire Ma Io non mi aspetto Nulla da qui Non so se voi Aspettate qualcosa Da sto multisammon E no Non sto piangendo Ragazzi Sono serio Sono serio Gokutranx Fino a un certo punto È una delle Rare summon Sicuramente Fra le più carine Gokugodint Che Mizzere che hanno fatto Uscirmo La LR Va bene Va bene Due ticket Ragazzi Vai Let's go Let's go Possiamo ancora andare Possiamo ancora Vabbè Già mi avevi dato Qualità Quindi hai voluto Proprio Strafare Hai voluto Andare oltre Bravo Doc Mi piace Quando fai così Mi piace Mi piace Anche se potevi darmi Mo Guarità E poi magari Dopo Fusion Omo Fusion E poi Dopo Guarità Te la scelta Te la scelta Gohan Ragazzi Abbiamo Tutto Tutto Il banner Tranne Trunks Tutto Il banner Tranne Trunks E ora Amico mio Gohan Sei la mia Versione Preferita Preferita Di un Gohan Devi cacciarmi L'amico tuo Te un amico C'hai È Trunks Ed è proprio quello lì Devi cacciarmelo Amico mio Fallo per me Fallo per me Per favore Non questo Non questo Non È tra l'SR Questo Amico mio Sei un grande Gohan Sei un grande Sei veramente Il migliore In assoluto Il Gohan Mirai Il Gohan Più Di sempre Perciò Trunks Vieni a me Mi ha cacciato L'altro Gohan Gohan Ultimate Ragazzi Abbiamo Un altro Class Leader Quindi Di quelli Che mi mancavano A parte Trunks Li abbiamo trovati Tutti Con addirittura Goku Kid Ability 1 Ripeto Ci mancherebbe Solo Trunks Trovare Trunks Vorrebbe dire Aver chiuso Tutto il Super Dockham Fest Avere Qualcosina Pendente Tra virgolette Nella batch Di Zamasu Però ragazzi Nulla che Sinceramente Nulla di Preoccupante Ecco Tarles Ha perso Ormai L'utilità Che aveva In passato Parliamoci Chiaro E Che altro Ah ragazzi Metal Cooler Però In fin dei conti Se vogliamo guardare Il lato positivo E' stato Tra virgolette Rimpiazzato Dal nuovo Cooler Quanto meno Come Come leader Ecco Quindi Diciamo che Non è Vero Sarebbe comunque Ottimo Trovare Metal Cooler Però io Sulla batch Di Zamasu Sicuramente Non ci torno Questa qui Di Trunks Stiamo per Abbandonarla Stiamo per Abbandonarla Non so Fin dove Arriveremo Ma stiamo Veramente Per abbandonarla Va bene Vegeta GT E Ribrian Giustamente Abbiamo trovato Ribrian Troviamo anche Ribrian Ok Vediamo un attimo 3 ticket Quanti ce ne mancano 8 Va bene Vai Ragazzi Credo che siamo Arrivati Alla fine Al culmine Goku Gohan Va bene Credo che siamo Arrivati alla fine Perché facciamo Questa multi Poi probabilmente Ci facciamo La free Ci facciamo I ticket E poi Va bene Così Insomma Ci abbiamo provato Ci abbiamo provato Questo possiamo dirlo Ci abbiamo provato Io purtroppo Non posso andare oltre Perché Comunque andrei a pullare Ragazzi Su un banner Per cercare Solo un personaggio Sicuramente Ottimo Veramente Veramente Tanta roba Veramente top PG Il punto È che Non posso Spingermi così Oltre Ecco Non posso Non posso farlo Va bene Nonostante le stone Comunque c'è Ragazzi A me avere tante stone Mi dà comunque La sicurezza Soprattutto per il futuro Di poter portare altri video E sapete poi come son fatto Dal punto di vista Dello shop Che ok Qualche volta Si cerco di metterci Qualcosina Ma Mai a livello Di Di shoppate Tremende O Chissà che Ecco Insomma Quei tempi son finiti Anche perché Non ce li mettevo Io Soprattutto Quindi Ragazzi Mi vado a fare Il ticket Perché i ticket Di solito Sono sempre sfortunati E poi Mi vado a fare La multi free E ci capa Cicciccicciccdà E E poi Chiudiamo qui Dai Non credo di volermi Fare un altro giro Questo Non credo di volermi Fare un altro giro Mi fa paura Vi dico la verità Mi faccio paura Da solo Devo avere la forza Devo avere la forza Di chiudere Tutti i Gohan Stiamo trovando Stiamo da solo Che troviamo il Mirai In altra volta Va bene Krilin E Mi sa Seguendo L'andazzo Mi sa Che alla fine Chiudiamo Come chiudiamo Nel jump Cioè Zamasu Trovato relativamente In In poco Quasi subito Mentre Trunks Che manca Totalmente Cioè A parte che Trunks Quello ho ritrovato Ad ability 1 Addirittura Se non vado errato Solo poco Va bene Dicevo L'ho trovato Ad ability 1 All'interno Dei 300kk Ecco Dei 300 milioni E Qui nel global Anche dove Poi Bisognerà Superare A sto punto Mi sa Nel suo ritorno Ecco Vado a dire Fin quando troviamo Guan Super Saiyan Di secondo livello A GL Borgos Tapion Tech Veramente Al top Vegeta GT Pan GT Gotenks Fisico Ce l'abbiamo Già D'ability Full Vai 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 Fassi per favore Che questo sacrificio Fassi che questo Sacrificio Possa essere Valso a qualcosa Dog Per favore Io lo sapevo Quel credo Quel credo Era Non vi fidate mai Di me Non vi fidate mai Di me Vai 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 Let's go Vai Ce la possiamo Fa Lo sento Sta arrivando Trunks Ragazzi sta arrivando Eccolo No Ecco No Non proprio lui Eccolo Vai Ultime due Se esce Trunks Ultima Esce Trunks Ultima Ve lo dico Vai Super Saiyan Vai Vai Ce la facciamo Dockan ce la facciamo Mi sta dando manco più un bg banner Quello è il bello Ti ho proprio fermato Ti ho detto proprio No basta Non ti voglio da più niente Ti dovevi fermare All'ability 1 di Gokit Ti dovevi fermare Al fatto che Al Gohan Al Mirai Altra Ribrienne Incredibile Cioè davvero Queste altre 150 stone Ci sono valse Praticamente solo di Ribrienne Bege Oh warida Oh warida Oh warida Questo è Trunks Questo è Trunks Ragazzi Questo è Trunks Ve lo dico io Questo è Trunks Fatto L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato E vai L'abbiamo trovato Ragazzi Sto godendo Sto cominciando Già a godere tantissimo L'abbiamo trovato Yosha L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Grande VEGET BLU FISICO Grande Ability 40 Ce l'abbiamo Ability 40 Che bello Ragazzi Trunks Non sa da fa Non sa da fa Purtroppo Ci arrendiamo a Trunks Che poi il bello Quello che mi viene Quello che mi fa Un attimino arrabbiare È che nel Jap Va bene che avevamo Un po' tutti la convinzione Che Zamasun Se lo vedesse minimamente Trunks Io nel Jap Da Trunks Non ci ho Non ci ho speso Mezza stone Quella è la cosa incredibile Invece qui Ragazzi Incredibile 10 ticket Proprio giusti Giustissimi È l'ultima Chiudiamo così Chiudiamo con ugualità Chiudiamo con ugualità Comunque credo che siamo arrivati Ad 800 totali A sto Dual Fest Male Malissimo Ero partito dell'idea Che facevamo Un giro scontato Da entrambe le parti E poi Avremmo valutato Un attimo Mamma mia Niente Guarda niente Non c'è trippa per gatti Me l'ha dato Trunks Me l'ha dato Come se non me l'ha dato Ma guardate Guardate Va bene ragazzi Va bene così Ragazzoli Che dì Non vado oltre Altrimenti qui Mi ha zero le stone Ragazzoli Vi invito a lasciare Ci abbiamo provato Ci abbiamo provato Spero che abbiate apprezzato Volete che spendo stone Ragazzi Le ho spese a sto giro Non ditemi nulla Mi piace Commenti Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Condividete questo video E noi ci vediamo appuntamento Al solito Al prossimo Video Amore 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 Amore